musica io direi varley tutta la vita che cazzo? cosa succede? e sta rimettendo un'altra valvola ok va bene andiamo io andrei da varley diretto perchè io sono sicuro che sia varley boh io andrei da varley diretto varley è in ruota potrebbe essere a pagare l'acqua si è chiesto per il muro io direi che prendiamo il dubbio dall'equazione e lasciarlo avere sei nervoso? è stato un po' sei in combattimento nel 1917 ah si? io cazzo un sacco di volte mi ho uccisi a centinaia spero che il tuo pezzo sia ancora servicabile Herschel ottimo di qua si può passare si? spero boh non lo so lo scopriremo si è lì è lì mortacci de pippo vicino ai cantieri ci arriviamo in retro perchè noi siamo fighi eccoci qua eh vai scappa ovvio che cazzo è andato? vieni qua varley varley che bei prati varley vieni qua ottimo ottimo bene sono riuscito ad atterrarne uno così al posto che seguirlo per otto ore e mezza controlliamo 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 il lavoro che stava facendo perchè ce ne stiamo andando? no il dietro di questo non lo controlliamo? no no vabbè vaffanculo andiamo dagli altri andiamo da Clemens dai ok Clemens dov'è? sicuramente qua a sinistra fantastico fantastico non girare non girare bravissimo poi qui a destra possiamo passare qua in mezzo manco per il cazzo perfetto dove posso? devo arrivare fino in fondo e poi tornare all'altra parte che palle vabbè di qua poi di qua e poi di qua fenomenal Clemens logo di lavoro Biggs LAPD vogliamo delle risposte e vogliamo velo ok ok cosa è tutto ? mi racconta cosa vuoi? dica che faccia intelligente che c'hai scusa ehm ah Ryan ha revisionato la cardaia però come fai a non saperlo? secondo me devo accusarlo con la cosa usiamo l'intuito no lo devo forzare Detroit PD è dopo Reginald Barley per il muro vogliamo ruvertarti per aiutare e abitare Clemens wow 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 tutto lo so con Barley è che ha un'attività da alcuni sviluppatori lo fa prima lo spiega se puoi ok 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 ottimo lol eh dai chi è questo? questo è Clemens no? ottimo ottimo ok ottimo e andiamo da Ryan quindi io ero convinto che fosse Varley sicuramente perché è VR la firma però anche dall'altra parte c'era R qualcosa quindi potrei aver preso una R per un'altra lettera comunque noi stiamo andando da Ryan giusto però Varley prende lavori da altri però ogni tanto li passa in giro quindi non sono lavori dove devi manomettere questa cosa non sono convinto non lo so c'è qualcosa da che ci sfugge evidentemente dell'interrogatorio è andato male ok ok eccolo lì lo so lo sapevo vieni qua stronzone cala puttana sai sparare oh e lo so lo so già non ti preoccupare oh Gesù santissimo se mi ci veni così sparagli grazie due ore fa dovevi farlo mortacci tua dai su andiamo è più vicino di così inizio oh grazie fermato è così che lo facciamo noi bel colpo biggs certo ottimo posso controllargli il furgone va bene dov'è che è dov'è che è fammi capire dov'è che è però dov'è che sarebbe eh questa è quella che non abbiamo fatto ok quindi poi posso vedere le posizioni io posso accettarle non farle vedere le posizioni va bene niente non me l'ha presa va bene così uh uh whoops ok andiamo alla stazione di polizia quindi in realtà io posso accettarle non farle e poi sapere sempre dove sono e poi farle è molto interessante questa cosa ok salve 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 ok eccoci qua wheelshire police station meggiore meggiore ho due sospetti phelps non hai nulla biggs ryan sta aspettando per l'interview uno barley in due hey hopkins ti pratico la tua sospettata di nuovo come phelps lol e in incriminare ho sospettato mi farò chiedere il caso parliamo e dai ryan su vediamo un po' cosa abbiamo abbiamo bietto del concorso su brano development caldaia resignata da ryan valvole regolatore che però è a casa di sowers insta hit modello 70 varley che era dei sowers lista di installatori femmina penale femmina penale per l'ortaggio della corte aggressione panfletta un archito di ryan panfletta di clemens spirale in sette di dichiarazione di clemens varley ha offerto una personale dei suoi pagamenti in nero e lo forzo no il modello 70 ha detto però che basta un coglione per farlo no è dai stefans ryan non posso accusarlo non voglio forzare la seconda no sembra un riporto basico queste cose sono uniti cosa posso dire mi su suburbano tutto niente merda non capisco non so cosa dirgli ah ok bene ahà eccolo lì ottimo bene dai su porco giuda è la tua fedina penale zio dai siamo nella polizia in effetti ok no lol ottimo parliamo con Varley salve abbiamo a Matthew Ryan in custody Varley penso che tutto ci siamo bisogna chiedermi a questo e ti farà f*** Ryan che p***o p***o hai mai lavorato su un posto su rosewood avenue famiglia di nome Sawyer potremmo sono da fuori sono da dove mi mandano non faccio molte riporti sono nuove installazioni eh che dai sai è stata risinata da Varley cazzo allora è che non so cosa si sono allora gli ha detto sai che abbiamo preso Matthew Ryan Varley per il momento dovremmo chiedere a lui ti venderà subito Ryan hai mai lavorato sulla rosewood avenue famiglia forse ma io vengo da fuori città vado da dove mi mandano non faccio molte riparazioni però in genere sono nuove installazioni però non mi sembra molto io l'accuserei così eri bam ok ok ah si Vabbè l'ho appena detto L'ho appena detto E dichiarazione di Matthew Ryan Ottimo Ah sì L'A7-1-2-70 E però nel tuo armadetto E' entrato nelle spirali, no? Che sta la valore del liberatore? Casa dei Sawyer Cos'è che si sono detti? Scusatemi, eh Deve essere sicuro Qua lo accuso probabilmente, però Non è stato da dire Ma in canale fra quell'ora quando si riacciano la fiamma pilota c'è un bel botto Perciò non è stato da dire niente che lo è nel casa dei Sawyer Dai, accusiamolo Beh Ah, e abbiamo la valore del liberatore No Merda Cazzo Però abbiamo tutte le cose Abbiamo tutte le cose Cazzo, come facciamo? Cosa dovevo fare? Quindi? Cosa pensi? Ah proprio così Non posso fare una telefonata tipo Scoprire qualcosa Non c'è un telefono qua No Non c'è un telefono Bene No no che cazzo fai? Stai qua Rimani qui Non scappare Io incrimino questo tizio qua perché sono sicuro che sia lui Certo non sapevi che erano dentro Quindi? Come? Oh merda Bene 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 Mi sa che ho fatto una merda Però va bene così Dai e su via Ogni tanto si sbaglia Routine però Allora mi sembra un po' troppo fragile per una cosa di 4 omicidi Quindi è solo che era fragile il caso Va bene Ok ragazzi io vi saluto Vi ringrazio come sempre di aver seguito questo caso Fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti Guardiamoci questo flashback Del caro Phelps Quando erano in marine Perché se no non possiamo Più guardarcelo E intanto vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti Starcross Son of a bitch No one wants to serve under me Bad fucking luck Can it We have a job to do here If I can live with it you can too Phelps non piaceva nessuno Alla prossima Gioco ai videogames da quando avevo due anni Adesso sono il re del let's play I want to win I want to win I want to win Non realidade 000